Se vediamo le statistiche delle agenzie immobiliari, sono abbastanza allarmanti sotto questo punto di vista. Anche qui, ovviamente, il mercato riprenderà nel momento in cui ci sarà della nuova ricchezza e giustamente questa nuova ricchezza andrà in gran parte, come sempre, dirottata in uno di quelli che è il settore principale dei beni rifugio, cioè la casa stessa. Probabilmente nel futuro ci sarà anche una ripresa dovuta al fatto di tutti questi interventi di tipo ecologico e di sostenibilità energetica che in qualche modo sono ormai diventati un'esigenza essenziale per le case stesse. L'ultima sciocchezza che mi viene in mente è l'obbligo, questa regia regionale con l'obbligo delle valvole di termoregolazione che entro il 2012 tutti dovranno mettere. Quindi questo per dire che le case dovranno diventare sempre più efficienti sotto un certo punto di vista e quindi essere meno costose anche da un punto di vista di gestione. Certamente comunque è un settore che non avrà dei grossissimi boom nel futuro perché quando c'è tanto materiale in vendita, se noi guardiamo la stampa anche solo di ieri, noi vediamo almeno tre pagine piene di pignoramenti e di vendite all'asto da parte del Tribunale di Torino e questo tutte le settimane ormai da tanti mesi, certe volte addirittura abbiamo quattro pagine. Quindi basta guardare la differenza rispetto ai giornali. Se uno prende una stampa di due anni fa, no guardi ne trovavi una, due, tre scritte piccolissime, adesso ne trovi 70-80. Ecco quindi questo è una cartiglia di torno a sole di quella che è la situazione attuale. Ma hai 70 vincitori del Super Enalotto, uno è anche torinese, lo salutiamo. Tu allora... Scommetto che è lei, no. La vedo là... Se fossi non direi, comunque, lei consiglia allora di investire sul mattone? Il mattone è assolutamente un ottimo investimento, in particolare la casa in cui si vive, quella è assolutamente essenziale. Le case che possono essere di alternativa come investimento va benissimo, però teniamo presente che hanno dei costi rilevantissimi di gestione, quindi o uno le riesce ad affittare piuttosto bene, oppure diversamente non è una cosa così semplice da tenere. Ecco, quindi direi che in quella diversificazione dei 2 milioni e mezzo che mi auguro sia lei che abbia comprato, io le consiglierei un terzo di immobili, un terzo di titoli di Stato e un terzo di beni di vario genere che potrebbero essere opere d'arte piuttosto che attività imprenditoriali. Oggi ci sono tantissimi esercizi commerciali in vendita, noi lo vediamo perché... Perché purtroppo la crisi è fatta più di tantissimi. Ci sono alcune dislocazioni strategiche, è un vero peccato vedere che queste realtà commerciali stanno andando via di lì, perché fra 3, 4, 5 anni lì torneranno delle situazioni interessanti, insomma, quindi ecco, per cui una bella tabaccheria mi pare che possa essere un ottimo investimento. Ci faccio un pensierino, grazie. Intanto però volevo affrontare anche un altro argomento, perché come tu ben sai, visto che sei uno dei fans numero uno di giorno per giorno, noi abbiamo un appuntamento fisso dedicato alla previdenza sociale, che è quello con il nostro pianeta IMSS, tutti i martedì. Ma con loro ovviamente si affrontano tematiche ben specifiche. Invece io lo chiedo all'economista quali sono i pilastri della previdenza, in modo da poter avere un raffronto poi tra il discorso dei nostri esperti dell'IMSS, e quello che ci presenterai tu. Questo è molto importante che sia ben conosciuto, perché poi in definitiva ci si pone sempre il problema di come faranno i nostri giovani a sopravvivere in futuro, con la previdenza che sta diventando sempre meno significativa. Pensavo come faranno i nostri eroi. Eh, ma praticamente i nostri giovani effettivamente dovranno essere degli eroi, dovranno cambiare mentalità rispetto a noi, che siamo abituati a una realtà diversa. Sostanzialmente abbiamo tre pilastri in Italia, attualmente dopo la riforma del 1998. Il pilastro fondamentale che è la pensione, quindi la previdenza sociale, gestita da IMSS per quanto riguarda le aziende private, dall'IMP-DAP per quanto riguarda i dipendenti pubblici. Questo è in funzione di quello che è la retribuzione, fino al 1995 la pensione era in funzione della retribuzione, cioè tanto avevi, tanto hai un tasso di sostituzione, cioè pensione rispetto a stipendio degli ultimi tot anni, era l'ultimo anno, poi la media degli ultimi dieci. E questo per chi è andato in pensione entro il 1995 con 18 anni. La pensione uno la può conseguire ovviamente dopo aver ottenuto un minimo di anzianità, di servizio e avere un minimo di anni, no? Quindi la famosa quota 90-92 su cui si sta discutendo di questa sommatoria. E quindi questa è la situazione, diciamo, generale su cui si può andare a pensare. Dopo il 1995 è entrato in funzione il sistema retributivo, cioè tanto tu versi e tanto tu avrai di pensione. Allora per una fase, per un certo periodo, c'è stato il sistema misto, parte retributivo, parte contributivo. Adesso i nostri giovani nuovi, tutto quello che potranno portare a casa, come pensione, in funzione di quello che loro sono in grado di versare in termini di contribuzioni sociali su busta paga. E quindi questo sarà molto riducente, quello che è l'importo. Oggi possiamo stimarlo su un 70% rispetto all'ultimo stipendio grande circa, ma le stime dei prossimi 10-15 anni portano sotto il 50%. Quindi è chiaro che se tu ti trovi con metà stipendio dall'oggi al domani non vivi. E quindi ecco che il legislatore ha pensato alla seconda e alla terza gamba. La seconda gamba sono i fondi pensione, che sono fondi o aperti o chiusi. I fondi aperti ovviamente ci possono aderire tutti. Quelli chiusi sono quelli che, i cosiddetti negoziali, vengono stabiliti per determinate categorie di settore oppure per determinate categorie di regioni. Quindi sono negoziali o regionali. E quindi possono entrare in queste caratteristiche soltanto determinati tipi di lavoratori. La terza gamba, tanto per fare prima la sintesi, poi parliamo degli aspetti più tecnici, sono i cosiddetti PIP, piani integrativi previdenziali. Cioè piani privati con cui uno accumula dell'altra rendita in funzione di avere la possibilità di portare a casa poi una pensione che è composta di tre cose. Sono le cosiddette pensioni integrative? Chiamiamole così, sono polizie vita sostanzialmente, la capitalizzazione che danno un certo tipo di rendimento. carissime, inefficienti, io le sconsiglio sotto mille punti, non io ma il mercato, insomma, però insomma sono quelle che sono. Fiscalmente, seconda e terza gamma, non sono malissime perché hanno alcuni aspetti fiscali particolarmente interessanti. Sono detraibili, non pagano contribuzione fiscale fino a 5.164 euro all'anno, quindi per quello che metti lì sei esente. l'incidenza della tassa sul reddito derivante da quegli investimenti anziché il 12,50% all'11% e la tassa sulla pensione che sarà erogata anziché essere calcolata per l'aliquota marginale è un'aliquota che va dal 9 al 15% massimo, quindi che viene calcolato su certi tipi di parole. Quindi è abbastanza interessante sotto un punto di vista fiscale. Certamente resta il problema della coperta troppo corta, cioè dove li prendiamo questi soldi? Perché non è che uno ha la sua bella busta paga e poi la divide, una parte già viene presa dalla contribuzione sociale normale, poi ne metti un pezzo nei fondi pensione, poi ne metti un pezzo, ecco, non vivi ovviamente. Allora l'idea del legislatore è stata quella di utilizzare che cosa? Il TFR. Ti dice, vabbè, allora senti, piglia il TFR dal 30 luglio 2009, chi non dice niente, entro sei mesi automaticamente la sua TFR passa a fondi pensione. invece i lavoratori nuovi, tutti quelli che... Il problema è che intanto i fondi pensione e questa previdenza integrativa, al massimo, al momento in cui vai in pensione, ti dà il 50% di capitale e il 50% come rendita, come rendita. E quindi se io avevo diritto a 100, intanto posso solo più recuperarmi i 50, il resto sarà una rendita che potrà anche essere vitalizia, in Italia c'è la reversibilità sul coniuge, sui figli in età di studio, sui figli disabili, quindi diciamo c'è anche questo tipo di previdenza, ma insomma non è un discorso così da tenere a cuor leggero, di rinunciare al 50% del proprio capitale. Secondo, il TFR è garantito dallo Stato e ha un rendimento garantito dell'1,50% più il 75% dell'inflazione, che ai giorni d'oggi è una meraviglia. Chi ha fatto investimenti in fondi azionari di pensione ha potuto, ai lui, verificare l'anno passato anche delle perdite cospicue in conto capitale, perché giustamente questi fondi per poter rendere devono investire in capitale di rischio. Il problema è che sui fondi pensione per un certo periodo di tempo ci sarà un'inefficienza abbastanza cospicua dovuta al fatto delle spese di gestione che sono elevate, la capacità o meno degli operatori di operare in maniera efficiente rispetto a quello che sono i rendimenti del mercato, e poi il fatto che la liquidità non è immediatamente disponibile, nel senso che tu hai dei limiti, cioè puoi farti anticipare dal fondo, così come dal TFR, le spese per la salute fino a un tot, puoi anticipare le spese per la casa, ma insomma resta un discorso abbastanza vincolante. Ecco, quindi pensarci molto bene, cioè conoscere la situazione. Ecco, dacci due consigli perché siamo in chiusura, quindi pensare a che cosa? Chi ha il TFR se lo tenga fino alla fine e ringrazia di averlo. Secondo, investimenti alternativi in proposte di tipo pensionistico possono andare bene, ma non si considera che siano investimenti che renderanno particolarmente, non sono particolarmente efficienti, quindi bisogna partire dal fatto che bene che vada renderanno come i titoli di Stato nel corso medio. D'altra parte non è neanche consigliabile dire non investite in strumenti a assente contenuto azionario e quindi di rischio, perché se andiamo su prodotti soltanto contenuti obbligazioni al titolo di Stato, le sole spese di gestione mi vanno a mangiare i rendimenti. Quindi, ecco, fare un certo tipo di attenzione, attivarlo almeno possibile, cercare di operare per quanto possibile con il risparmio proprio, investendo direttamente, io consiglio assolutamente in titoli di Stato direttamente, dove oltretutto gli investimenti oggi possono essere fatte con tagli da 1000 euro ciascuno sul proprio conto corrente. Quindi farsi una propria pensione alternativa ancora, rispetto, questo per quanto riguardano certi tipi di esigenze normali. Poi è chiaro che le forme pensionistiche hanno anche certi tipi di caratteristiche, tipo le polizie di vita non possono essere pignorate, ecco, questa è una caratteristica, d'accordo. Siamo partiti dai pignoramenti, torniamo ai pignoramenti. Quelli erano immobiliari, questo pignoramento. Insomma, voglio dire, è anche una considerazione di cui tenere conto, anche se la famiglia media, insomma, difficilmente si vedrà pignorata la propria ricchezza, però può succedere, e quindi uno va tenuto conto. Certo. Grazie a Paolo Turati per tutto.